La Sandro Abate lavora in vista dell'esordio in campionato contro l'Acqua e Sapone. Subito un duro banco di prova per la formazione avellinese. A Salso Maggiore i ragazzi di Lopez sfideranno una delle favorite alla vittoria finale. Un appuntamento duro quello contro gli abruzzesi per Avellino che anche in questa stagione vuole essere protagonista così come lo scorso anno provando a cullare quel sogno chiamato Scudetto fino alla fine cercando sin dagli albori della stagione a sedersi al cosiddetto tavolo delle grandi. Non a caso la dirigenza ha messo a segno colpi importanti portando a casa anche Ercollessi. Doppia seduta di allenamento oggi per la squadra prima al country sport e poi al pala sport di Prato la Serra. Giovedì è previsto proprio a Prato la Serra un incontro con il Cus Molise club militante in Serie A2 mentre domenica la squadra sosterrà una giornata di riposo. Intanto proseguono senza problemi i lavori di alleguamento al pala del Mauro che finalmente sarà la tana della Sandro Abate. Dopo anni in cui si era stati costretti ad emigrare altrove per giocare.